Finalmente Attenzione! Attenzione! Sto in cui andare, puoi scappare, ma io ti prenderò Io non scapperò È tempo per questo mondo di perire tra le fiamme Tu sei l'Avatar Sono solamente un ragazzo Forse questa è la fine Zuko! Un fuoco che distruggerà ogni cosa No! Ora basta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!